Il corpo di Pietro Miccoli, l'operaio 47enne di Torre Santa Susanna, tragicamente morto in un incidente sul lavoro, si trova al momento nella camera mortuaria del Fazzi di Lecce a disposizione dell'autorità giudiziaria. Il fascicolo sulla sua morte, aperto dal magistrato di turno Stefania Mininni, è passato nelle mani della dottoressa Paola Guglielmi, competente nei casi di decessi sul lavoro, e dopo sarà affidato l'incarico per l'autopsia. Lo sfortunato operaio, impegnato in lavori di ristrutturazione in una villetta a Torre Lapillo, è deceduto sul colpo, schiacciato dalla gru montata sul suo camion. Le indagini avviate dai carabinieri della stazione di Porto Cesareo serviranno a fare luce sulla tragedia. Solo al termine di tutti gli accertamenti si potrà capire se si sia trattato di una drammatica fatalità o di un guasto tecnico al braccio meccanico che, per cause appunto, ancora da chiarire, si è spezzato finendo addosso all'uomo. Per recuperare il suo corpo, incastrato fra il camion ed il muro perimetrale della villetta, è stato necessario l'intervento dei vigili del fuoco. Sul posto sono intervenuti anche gli ispettori dello Spesal. Solo dopo l'esame autoptico il corpo di Pietro Miccoli potrà rientrare nella sua Torre Santa Susanna, dove saranno celebrati i funerali. La notizia della sua morte prematura ha sconvolto l'intera comunità. Miccoli lascia una moglie e due figli piccoli.